Siamo dati Gesù e Maria, siamo alla quarta domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle Carissimi, in questa omedia vorrei approfondire in maniera particolare la pagina del Vangelo, morestando come trovate nell'introduzione del corlettino che il grande tema di questa domenica è proprio la figura dell'uomo di Dio e la sua autorità e autonavolezza, profetizzato e promesso nel libro del Deuteronomio, Dio dice gli seri di Dio, susciterò un profeta che ti parlerà in mio nome, di cui Gesù ne rappresenta la perfetta realizzazione, il perfetto complimento. Ora, il Vangelo che abbiamo ascoltato sembrerebbe principalmente il racconto di un esorcismo, Gesù comanda questo spirito impuro, taci, esci da lui, va bene, Gesù scaccia i diavoli. Ma in realtà questo non è il tema principale del Vangelo che è molto, molto più profondo e che va oltre, per molestando che spero che tutti ci crediate che il diavolo esiste. E non pensiate che sia una favola inventata tanto tempo fa, anche recentemente, se avete scritto anche il Papa recentemente, ne ha parlato Deuteronomio, bandendo e dichiarando, non usa questi termini così forti, però il senso era quello come eretici, mi pensa che il male sia un concetto astratto. Cioè la liberazione ci parla del male non come un concetto astratto, ma del male come originato da una libera scelta di esseri intelligenti, che sono innanzitutto gli angeli che si sono corrotti, perché questi sono i diavoli, e poi gli uomini che si corrompono, istigati e provocati dagli altri. Bene, da questo deriva ogni forma di male che c'è nel mondo, quindi non è una astrazione, d'accordo? Molto importante tenere presente questo. Però uno dice, va bene, io non sono indemoniato, speriamo di no, non ci sa nessuno che strilla, quindi va bene, preghiamo con queste povere persone che si trovano con questi problemi, noi sappiamo dagli esperti che questa si chiama l'azione straordinaria del demonio, che appunto è straordinaria, quindi non è così tanto diffusa, quindi grazie a Dio coinvolge una cerchia non troppo ampia di persone, anche se queste cose succedono purtroppo, dice, va bene, che mi interessa il Vangelo che abbiamo ascoltato, ha la mia vita, e invece no, perché adesso lo andremo a vedere bene e vediamo invece quanto ci interessa. Allora, Gesù non è andato in una sinagoga, capite, a fare un esorcismo, non l'avrò chiamato a scacciare un demonio. Il Vangelo ci dice, entrato nella sinagoga di sabato, come ogni buon ebrello, cosa fa? Quello che sto facendo io adesso, si è alzato e si è messo a fare una predica, insegnando. O, e la prima cosa che nota l'Evangelista è che tutti erano stupiti dell'insegnamento di Gesù, il termine greco è molto bello, spinge proprio, hai detto, ah, un mappa, oh, ma non è un mappa per il discorso elegante o retorico, ma per l'autorevolezza dell'insegnamento, cioè, Gesù, quando parlava, dava la lenta impressione che quello che diceva era vero, uno, e che lui era il primo, ovviamente, a crederci e a giocarsi in quello che predicava. Come ho approfondito nell'omenia di ieri sera, un profeta è autorevole a due condizioni, uno che dice la verità, nel Deuteronomo si legge, quel profeta che avrà la presunzione di dire ciò che io l'ho ordinato, quel profeta sarà messo a morte, un profeta che non parla in nome di Dio, cioè è assolutamente fedele alla verità che Dio è e insegna, è falso, però il profeta è anche coinvolto in quello che dice, voi siete, diciamo, per tanti anni sono stato dalla parte vostra, quindi non è come un prete ci nasce, uno prete ci diventa, quindi prima di stare di qua, si sta di là, no? Si può dire di andare a ascoltare le confessioni, si fanno le confessioni, no? Io mi chiedevo sempre, ma come si starà dall'altra parte della grata, come si starà da qua, si sta meglio di là, sicuro, insomma, si sta un po' più tranquilli, però, anche voi, quando ascoltate qualcuno, capite subito se uno sta a parlare tanto per di qualcosa oppure se quello che dice lui lo vive e ci crede, e questo è il fondamento dell'autorevolezza del discorso, capite perché? Cioè la coerenza, cioè il fatto che quando si parla di queste cose, cioè la fede non è un qualche cosa di astratto, la fede è un qualche cosa che coinvolge la vita, per cui, come diceva il buon Paolo VI, ci diamo un altro Papa, per par condicio così, diciamo tutti, Paolo VI diceva, il mondo, più che di maestri, ha bisogno di testimoni, perché se il maestro non è un testimone, non è autorevole, è screditato, e quando, vedete, non come gli scritti, Gesù stesso ci dice, che cosa facevano gli scritti? quando fa le inventive contro i farisei, Gesù dice, sulla cattedra di Mosè sono seduti gli scritti ai farisei, ricordate, pare che è il capitolo 23 di Matteo, quando loro vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate, secondo le loro opere, perché dicono e non fanno, purtroppo questo brutto proverbio, mi raccontava buonanima di mamma, poi nella rinunciosità popolare era passato, per i preti, fai quel che il prete dice, ma non fa quel che il prete fa, questo è un pessimo discorso questo qui, perché se fosse avere una cosa di questo genere è finita la predica, capite, cioè San Girono diceva, sta attento che quando predichi non ti si inceppa la lingua, perché stai dicendo qualche cosa che tu non vivi, immaginate se sto sempre a dire, dobbiamo costruire una comunità piena d'amore, piena di carità, e poi tra l'altro la persona pesce in faccia, c'è qualcuno che si alza a piedi e mi dice oh, comincia a darci un po' ad esempio e poi finisci la predica, no? Quindi Gesù su questo era assolutamente esemplare, quindi era autorevole in questo senso, ma attenzione, è in questo contesto, cioè, capite, non è che Gesù ha provocato il demonio, il demonio, se dentro la predica di Gesù si è arrabbiato, questo dice il Vangelo, allora, se tu una predica ah, tu sei musicata e bocca aperta, diciamo, ma guarda questo, magari qualcuno è stato toccato, perché la predica, guardate che la predica è fatta bene, quando ti toccano il segno, cioè, vorrei sapere se avete sentito una bella predica, se avete sentito una bella predica, ci sono le varie spie, allora, se una predica è bella, quando finisci uno dice, già finita, perché già finita? Prima cosa, seconda cosa, si ricorda almeno qualche cosa, e terza cosa è stato toccato nell'intimo di qualche particolare, se lo predica non si è bella niente, allora, il diavolo si arrabbia sentendo la predica di Gesù, dice, che ti importa della predica di Gesù al diavolo? Ed è a partire da quella che dice, oh, tu che sei venuto a fare con i zannoni, sei venuto a rovinarci, ma attenzione, Gesù non aveva fatto un esorcismo, capite? Quindi non è venuto a rovinarlo perché lo sta per scacciare, gli sta rovinando con le prediche, cioè, Gesù rovinando con le prediche, non con gli esorcismi. Allora, sapete che mi diceva a me il caro Vescoo Petrochi, oggi sti facciamo una citazione di tutti quanti i profumi di chiesa del nostro tempo, mi diceva sempre, sta attento, premonami, ricordo sempre che il modo migliore per cacciare i diavoli e predicare bene il Vangelo, ve lo dice sempre, e c'ha ragione, e perché, e qui, capite, vedete come ci comincia a interessare, perché il diavolo si arrabbia quando sente la predica di Gesù? E perché dice, questo è uno da rovinarci? Allora, l'ormodio è molto semplice, perché a fianco all'azione straordinaria del demonio, e questo ce l'aveva, infatti poi Gesù, Gesù è il sogno di ogni esorcista, io ho conosciuto qualche esorcista a vita mia, anche buonanima di Padre Amort, questi ti raccontano quanto prendi la persona che devi fare gli esorcisti, non ci passano gli anni prima di cacciare il demonio, e invece Gesù, insomma, che ce l'aveva qualche carta in più, taci, esci da costrui, l'esorcismo è durato tre secondi, finito, subito, questo ci dà anche molta tranquillità per la potenza che c'è, Gesù contro i demoni, no? Però, ripeto, queste sono cose rare, ma se io dicessi che dobbiamo stare un po' tutti attenti al demonio, cominciamo a girarci un po', perché c'è l'azione ordinaria del demonio, e qui purtroppo nessuno di noi che stiamo qui, e chi pensa di starne fuori, vi dico in nome di Dio, sbaglia, siamo tutti quanti sotto la stessa barca, perché il demonio ha tutti, nessuno escluso, nessuno escluso, ci fa due tipi di operazioni, pensate che una delle due, l'ha fatto pure con la Madonna e con Gesù, quindi figuriamoci se non la fa con noi. Allora, il demonio ci fa due cose. Numero uno, se noi stiamo vivendo lontani da Dio, senza renderci conto, d'accordo? Perché la stragrande maggioranza degli uomini, credetemi, io faccio il prete, vive di fatto in comportamenti lontani dalla volontà di Dio, ma non se ne rende conto, state tranquille se ne lo proteggiate possi, che è che capire? E, attenzione, non è che è cattivo, che è falso, che è epocrita, o che nega l'evidenza, fa il male e non lo dice, non lo ha convinto, che fa tutto bene, che è tutto tranquillo, che non c'è niente che non fa, capite? Allora, che succede? Se qualcuno viene a predicarti, mangiare la verità e comincia a dire, bene, fratello cavolo, sai che questa cosa, gli occhi di Dio, non va tanto bene? E tu quella cosa la fai, e non sai che quella cosa non va tanto bene, e che succede? Ti cominci subito, ti cominci a turbare un po', ti si fa, se c'è la camicia addosso, mamma mia, questa cosa non va bene gli occhi di Dio, e io la faccio, allora cominci, sarà vero, non sarà vero, no, non è vero niente, questo, questo, se l'è inventato lui che è peccato, non è, comincia tutto quanto, che cos'è tutta questa cosa che si agita da dentro di lui, che cos'è? Sono i diavoletti che cominciano a sentire freddo, capite? Cominciano ad agitarci un po', perché se tu, anche non sapendolo, vivi lontano da Dio, tu campi male, e se tu campi male, i diavoli campano bene, perché sono cagini, tu campi male e c'è il serio pericolo, anche se non le sei consapevole, che vai a finire male, cosa che i demoni desiderano di tutto il cuore. Alla fine della messa, dopo il canto finale, solo per chi muove, noi faremo una bella preghierina a San Michele Arcangelo, non la facciamo tanto per farla così, per fare una cosa in più, e tu, principe della finezza celeste, ricarciano l'inferno satana e gli altri spiriti divariti, cosa fanno? I quali erano nel mondo per perdere gli animi, cioè questa verità di fede, che è più importante del fatto che esistono gli indemoniati, noi ce la dobbiamo ricordare, cioè noi siamo attorniati da spiriti intelligenti e invisibili, che si prodigano con tutte le loro forze, e sono grandi le loro forze, per portare a te all'inferno, cioè in uno stato di eterna e infinita sofferenza e disperazione, e questo lo fanno però io a Dio. Però io a Dio che significa che siccome Dio a te, a ogni singola anima, vuole un bene infinito, e anche solo per te Gesù, che è versato fino all'ultima goccia di sangue, i demoni che odiano Dio e odiano l'amore e sono invidiosi dell'amore che Dio ha verso di noi, voi dobbiamo impoggerci e la loro rovina. Questa è una cosa che fa presa, sono serie. Allora, sono due le tecniche, da un lato l'ignoranza, capite? Ecco qui il diavolo, allora il diavolo è contento, se tu non ci credi che più esiste, contentissimo, se tu pensi che niente è peccato, qua all'inferno fanno proprio una festa in maschera, altro che il carnevale, quando si proprio si imbriacano proprio, ne fanno tutti colori, questo non fa niente, non è niente, non è male, non è peccato, non è male, tranquillo, sereno. Allora, quando arriva il profeta che ti dice fratello mio, voglio tanto bene, mi dispiace doverti mandare per storto la domenica o il domenica, però sta attento a questa cosa che fai, non è bene, se la fai, vai incontro alla tua rovina, pensaci, e questo processo che parte dentro di noi, dentro di noi, ascolta questa parola, è la conversione, abbiamo una parola domica scorsa, questa è la cosa più importante, allora, il diavolo, uno, se tu stai nell'errore, lavora per fartici rimanere, quindi, zitto tu e zitto io, state tranquillo, se tu cominci a camminare verso il bene, lavora per farti ritornare indietro, e questa è la tentazione, Gesù è stato del tavolo, il diavolo, ciò che dice il Vangelo, tra poco sarà la prima domenica di quale sentirebbe, la Madonna, che è la vincitrice del demone che ci ha, è stata adentrata al diavolo, secondo voi, o no? Non ci ha provato? Sì che ci ha provato, è stato soprattutto dalla capoccia contro il nulo, ma ci ha provato pure con Gesù e con la Madonna, e secondo noi, il diavolo, che ci ha provato pure con Gesù Cristo e la Madonna, d'accordo? Se io, come voi, mi metto un pochino sulla via del bene, non per la carica, sapendo che a faccia secchi, a noi ci vuole poco, se non stiamo veniti a Gesù la Madonna, certo che ci viene, dalle tranquilli, sicuro 100%, allora sono due le situazioni che possiamo provarci, se noi abbiamo ancora una fede molto molto piccola, molto informe, poco coscientizzata e poco vissuta, il diavolo farà di tutto per portarti lontano, dalla messa, dalle beniche, da tutto quello che può scuotere un pochettino la tua coscienza. Se invece tu stai cominciando a camminare, comincerà a metterti una montagna di bastoni fra le vuote e a tentarti in tutti i modi possibili perché tu ti fermi e torni indietro. Questo è il messaggio di oggi, non è, certo poi Gesù scaccia i diavoli, d'accordo? Nelle forme straordinarie, ma la cosa più importante è questa, cioè attenzione, ecco, d'accordo? Comanda, allora, come fai a capire se tu c'è di fronte, questa è l'ultima cosa, un uomo di Dio oppure uno che non è un uomo di Dio. Appunto, se le parole che ti dice l'uomo di Dio in qualche modo ti toccano in vivo, allora quello fosse un uomo di Dio. C'è un bel discorso, una bellissima predica, come direi, divertentissima, interessantissima, con termini ideali, eccetera, eccetera, ma tente farei caso che freddo, solletica, diciamo così, d'orecchie, ma non ti cambia il cuore, quello sarà un grande adoratore, ma non è detto che sia un profeta e che sia un vero uomo di Dio. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a davvero una grande sapienza e a ricordare queste cose, se questa predica ha funzionato ve ne ricorderete, non più di queste cose. Ricordiamo soprattutto che il diavolo ci fa due cose, o te fa stare l'ignoranza o cerca di riportarti nell'errore, d'accordo? Contro questo dobbiamo fare attenzione e non dobbiamo preoccuparci quando qualche cosa ci scuote, quando dobbiamo essere contenti di entrare in questo travaglio della conversione, perché superata la prova, vengono frutti di gioia, perché il discorso è questo qui, se si rimane sotto la morsa dei nemici di Dio, noi capiamo male. Se, superando le difficoltà, ci diamo al Signore e passiamo dalla sua parte, camperemo molto meglio. Ci aiuti la Madonna a credere anzitutto in queste cose e ad agire di conseguenza. Siano notati Gesù e Maria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti